Gli arachnidi sono un gruppo di artropodi a cui appartengono scorpioni, zecche, ragni e acari. Sono tra gli animali più adattabili, puoi trovarli in tutto il mondo. Ci sono più di 70.000 specie diverse. Come gli insetti, gli arachnidi hanno un esoscheletro e gli arti articolati. Tuttavia, a differenza degli insetti, hanno 8 zampe invece di 6, non hanno le antenne o le ali e il loro corpo è diviso solo in due parti. L'addome contiene gli organi interni. La bocca, gli occhi e le zampe sono attaccati al cefalo torace. Oltre alle 4 paio di zampe, il cefalo torace ha un paio di appendici chiamate pedipalpi e un grosso paio di zanne chiamate celiceri. I pedipalpi servono per afferrare le cose, ma possono anche percepire odori e vibrazioni. Le zanne o celiceri spesso contengono veleno per paralizzare o uccidere le prede, ma vengono anche usate per scavare buchi nel terreno. I ragni sono gli arachnidi più diffusi. Sono inoltre gli unici arachnidi con le filiere, speciali ghiandole nell'addome che producono fili setosi. Con questi fili essi intrappolano le prede, proteggono le uova e si muovono nell'ambiente. Gli scorpioni fanno parte degli arachnidi. La loro coda sembra davvero pericolosa, ma la puntura di molti scorpioni è più debole della puntura di un'ape. Molti scorpioni vivono nel deserto e cacciano di notte. Gli opilionidi sono arachnidi, ma non appartengono al gruppo dei ragni. Si riconoscono perché hanno zampe lunghissime rispetto al loro corpo. Gli acari e le zecche sono altri tipi di arachnidi. Sono piuttosto piccoli, la maggior parte misura meno di un centimetro. Si nutrono del sangue o della linfa di altri organismi viventi. Bisogna fare attenzione, non sono sempre pericolosi, ma alcuni di essi possono trasmettere delle malattie. Sebbene gli arachnidi possano talvolta sembrare orrendi, sono molto importanti, perché tengono sotto controllo la popolazione degli insetti di cui si nutrono.